Non ha successo la femminile Rimini dopo un mese di digiuno. I tre punti arrivano contro il fanaglio di Coda Junior Fiorano, ma il passivo pesante non deve ingannare. Le ospiti sono stati in partita per più di tempo prima di subire l'ira delle padroni di casa che hanno fatto la voce grossa in ben cinque occasioni. Novità tattica imposte da Zeno Lisi in virtù delle numerose assenze. Si vede Sarapaci in versione brevarte, terzino con professione offensiva all'occorrenza, dura a morire e polmoni per sette persone. È il soldo stagionale per Saralisi dal primo minuto, preferito in avanti a De Mattia, mentre Esther Protti indossa la maglia numero 10, libera di esprimere la propria fantasia, ma libera anche il fatto di posizione in campo. Una giornata ricca di novità che sembra colorarsi bianco-rosso, ma non senza patemi iniziali, come quello che arriva in avvio di partita, certamente al minuto 7, quando Di Scianni colpisce un'incredibile traversa. La risposta dei Rimini arriva da Fiumana, ma la sua conclusione è fuori misura, come del resto il tiro di Saralisi, che servita da Gretkan, calcia al lato. La pressione bianco-rossa procede, questa volta Fiumana, a chiamare la rispinta Monari, prima che Sarapace venga chiusa in corner dalla retroguardia ospite. Il gol è nell'aria e arriva puntualmente al minuto 32, quando Esther Protti consegna sulla testa di Fiumana un pallone che viene gettato in rete con forza e precisione. Per l'attaccante bianco-rossa si tratta del quarto centro in stagione. La reazione ospite non tarda ad arrivare, la scatenata di Scianni mette alla prova i riflessi di Villucci, che si rifugia in corner. Il duello tra le due continua in chiusura di tempo, quando Villucci non trattiene la conclusione della numero 10, per poi puntualmente riscattarsi con uno sbalzo all'indietro all'ighita che le permette di tenere violata la propria porta. Ma il duello si rinnova anche ad inizio di ripresa, quando di Scianni sfida Villucci in un'azione da PlayStation, joystick apportata di mano da parte dell'attaccante, destra verso sinistra, dimenticandosi di girarlo nel momento opportuno, trovando i piedi di Villucci sulla propria strada. Superato l'ostacolo, le bianco-rosse dilagano. A 56, Esther Protti, su punizione, inventa il 2-0. Tra l'altro, primo gol in stagione per lei. Due minuti più tardi, il capitano conferma la propria vena realizzativa e la sua fantasia, cercando di imitare chi dalla bandierina inventava traiettorie bellenose. Un certo giovanino stroppa. I gol ed applausi. La femminile Rimini smarrisce le paure e affronta la gara di soltezza. Pace, dopo una prova di grande sacrificio tattico, lascia il posto a Cristina Melchionna. Cinque giri di lancette. La centrocampista classe 91, con un pallonetto, realizza il suo primo gol con la maglia della femminile Rimini Calcio. Sentiamo le sue emozioni e la dedica nell'intervista realizzata a fine gara al collega Luca Filippi. È stato un gol inaspettato. Diciamo che ha ripagato i vari sacrifici fatti in allenamento, anche venendo dopo il lavoro, arrivando a volte anche in ritardo. Ho subito così. È stato molto bello. Ovviamente lo dedico, oltre alla squadra che mi ha dato una grande mano, all'allenatore ovviamente, a tutto lo staff e anche alle persone che amo, ovviamente ho dedicato a loro. A dieci minuti da termine, Gretkan carica il desto, ma Monari devia in corne. Prima che nel finale arrivi anche la prima gioia di stagione, per Chiara Protti, che dalla distanza trafigge nuovamente la rete ospite, dando a Rimini femminile quei tre punti tanto attesi.